mi serve per essere come un montaggio avesse bene i toglie come vanno messe come vanno ad acqua aspetta quando lo scaldabagno l'ha guardato come lo scaldabagno si si buongiorno buongiorno ma c'è la parerea delle persone che dev'è avere un po' è una calda eh che mi spazio mi hai chiesto attesca da bagno eh eh stacca il cibo l'altro non serve a niente però ho pigliato un po' a voi usciamolo io da inizio bene si 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 si